benvenuti amici di futtitalia.it io sono john oggi appuntamento con la compravendita sul canale ma in realtà un comuna un appuntamento nuovo non solo di compravendita come avete voluto leggere dal titolo ma anche un road to su questo canale probabilmente non li avrete mai visti ho deciso di portare questo contenuto perché questo acquisto come avete potuto leggere dal titolo è un acquisto importante e quindi ci voglio fare un road to l'acquisto in questione è il signor ronaldo prime moment come avete potuto leggere è l'ultimo obiettivo che manca nella mia rosa che vi faccio vedere dalla web app me l'avete chiesto in tanti e ho deciso di accontentarvi eccola qui la mia rosa al di là del fatto che c'è ancora questo bug che non carica le immagini delle prime l'ultimo upgrade possibili io credo che questa salvo stravolgimenti con gli ultimi tots rimasti ligan e serie a sia questa la rosa che con cui chiuderò l'anno tranne questo giocatore qui che mi soddisfa molto ma che non è nella sua versione principale di conseguenza ho deciso di ascoltarvi me l'avete chiesto in tanti sul canale twitch nelle live settimanali che vede sul canale twitch di provare a prendere il fenomeno prime moment e quindi ho deciso di provarci purtroppo come potete vedere anche da questa carta questa è la versione non scambiabile perché io feci la sfida quando poco dopo l'annuncio da parte di esports che non avrebbero più rilasciato sotto forma di sbc le icone prime moment di questi top e infatti viera l'ho acquistato 4 milioni e 6 ottimo ottimo prezzo per alcuni prezzone per chi ci segue se twitch e gullit pagato 8 milioni questo giocatore qui ovviamente non scambiabile quindi non potrò ottimizzare la vendita di questo giocatore e butterò via per così dire circa 3 milioni e mezzo di giocatori di sfide perché non lo potrò nemmeno ovviamente portare in banchina avendo nella stessa rosa un giocatore identico o comunque della stessa un'altra versione della della stessa carta ci voglio provare perché è anche una sfida personale è anche un buon motivo per portare dei contenuti in un periodo di fifa che andrà verso verso la fine noi toz solitamente sono gli ultimi forse il penultimo appuntamento importante annuale penso anche quest'anno ci saranno i footis quindi in teoria forse quelle carte lì potrebbero essere carte interessanti ma non so fino a che punto comunque ho deciso di fare questo road to e ho messo già nel target il signor ronaldo eccolo qui prezzo di acquisto 15 milioni ieri sera ne è scaduto uno in venduta a 14 quindi cosa quanto rara solitamente non è nemmeno presente sul mercato ne stanno diventa ne sta spuntando uno ogni tanto il problema come potete vedere è l'unico sul mercato il problema è proprio questo che è molto molto raro chi ce l'ha non lo vende e quindi potrei anche ritrovarmi con 15 milioni accumulati senza la possibilità di prenderlo subito dovrei essere lì pronto a prendere quindi poi una volta arrivati alla cifra diramerò un comunicato nel quale potete avvisare anche a qualsiasi ora del giorno della notte che se esce sta carta sul mercato posso andarla a prendere sarà difficile rimanere con 15 milioni lì fermi comunque ci proverò è l'ultima sfida di questo fifa che per quanto riguarda i profitti me ne ha date tante e voglio andiamo a prendere la classifica profitti eccola qui siamo a 58 milioni 892 quindi quasi 59 milioni saranno arriveranno sicuramente 60 per quando punterò perché comunque devo ancora tirarsi un bel po di crediti per puntare a ronaldo e non la state vedendo perché ci sono io davanti aspettate eccola qui eccola 58 milioni 892 ma sono accorto adesso c'è la gamma davanti e proverò quindi a prendere questo fenomeno per arrivarci comunque il piano di battaglia è bello difficile perché come potete vedere sono quasi a 6 milioni ho fatto una stima prima di avventurare prima di iniziare a mettere a fuoco questa questa impresa perché comunque accumulare 15 milioni non è cosa da tutti i giorni e ho fatto una stima di quello che ho nelle pile che vi faccio vedere anche il road to ronaldo prime moment si verrà strutturato con gli investimenti settimanali quindi vedrete come mi sto gestendo e poi sarà molto ovviamente una serie di flip sarà strutturato con una serie di compravendite costanti che troverete e vi rimando questo al canale twitch che trovate in discussione nelle nostre live eccolo qui siamo attualmente stiamo ospitando hollywood che salutiamo comunque il nostro canale di ce lo troverete qui in descrizione al video le pile sono composte attualmente da una serie di carte per me fondamentale di questo team o 2 che oggi andrà a scadere dei maio con grande quantità che si è qualche pellegrini ma tanti dei maio sliti si pronuncia così babà ottimo ottimi if di ligand santander perché era un troppo troppo vantaggioso a quel prezzo da non prendere culibali una serie di nif come potete vedere i car di mertens inies scelsi screen una serie di if di nif scusate legati alla serie a e adesso ne parleremo un continuo nel discorso if butel niang tutti gli if di questo team of the week ne abbiamo parlato ampiamente nelle live vedete che i prezzi sono già aumentati parecchio rispetto ai prezzi di acquisto che avete sicuramente visto nelle nostre schermate sul sito nella sezione inform sicuramente queste carte ci daranno ci stanno già dando ottimi ottimi vendite qualcuno già parte over 20 l'avete visto ieri addirittura ieri mattina del maio era 21 e 5 di bin c'erano vendita 22 23 abbastanza facile tutte carte comprate al di sotto dei 15k allo stesso che si è niang l'abbiamo pagato intorno a 17 18 19 cap ottimo ea 25 pellegrini sotto 20k ea 26 babà a 11k è già 15 slidi è molto altalenante quindi questo giocatore come potete vedere anche ieri oscillava vedete 14 poi ricala poi questi sono prezzi xbox però comunque anche su playstation a questo andamento abbastanza così ondulato questo giocatore secondo me è un giocatore che può essere ancora acquistato così come lo stesso santander che è loro due sono gli ultimi if dei rispettivi campionati in santander per la serie a e slidi per la ligand perché come sapete bene i campionati si sono chiusi e da questo team of the week che partirà oggi il team of the week 38 non vedremo più campionati prioritari nel tra i cinque maggiori nel team of the week ci saranno questo che cosa vuol dire che non ci sarà più possibilità di investire sugli informa assolutamente no ci sarà comunque la possibilità attraverso la nazionalità degli investimenti ma io reputo questi due molto interessanti soprattutto questo santander che comunque sto continuando ad acquistare come potete vedere non assegnati a tra l'altro santander a 10k 1750 si prendono ancora hanno fissato il bug dei non assegnati quindi con la doppia offerta purtroppo non si può acquistare più delle cinque carte cioè non c'è più la possibilità con la doppia offerta di acquistare andare oltre i cinque non assegnati si può snapperare solo andare oltre 5 non assegnati da console quindi per fortuna l'anno corretta a fine anno però comunque una secca dura per chi come me utilizza tanto la web app piccola parentesi su questo bug torniamo su santander perché è importante questa carta perché secondo me ha un buon margine di profitto infatti basta andare a lineare tutti gli inform di serie a li sto filtrando tramite footbine come potete vedere e li sto ordinando per prezzo crescente e vi accorgete che oltre a quelli a zero quasi estinti comunque attualmente non presente sul mercato santander è quello più economico ed ha un gap di 6 7k stabile con chissi de mayo e tutti gli altri a venire questo che cosa vuol dire che raggiungerà facilmente questo questo colmerà questo questo cap verrà colmato facilmente non è detto però secondo me è una carta che non con il toz di serie a che arriverà venerdì non può rimanere a questo prezzo di conseguenza vi consiglio di andarne a prendere un po intorno agli 11k comunque sotto agli 11k di non forzare troppo la mano e prezzo di rivendita intorno ai 16 17 17 17 cap per playstation 17 18 per xbox secondo me ci si può puntare tranquillamente il discorso analogo lo abbiamo fatto per anche per gli if i due if di ligand soprattutto per slitty che ancora a basso vedete 11k poi c'è babà subito dopo e poi ci sono altri if vecchi 15 16 17 cap anche qui però qui dovremo aspettare una settimana in più per ottimizzare le vendite perché si arriverà con la ligand probabilmente da venerdì prossimo capitolo nif invece avete visto che anche sui nif ho puntato tanto vi faccio vedere anche quelli che ho nei non assegnati in obiettivi di mercato vedere se ancora seguendo qualche nif di serie a come immobile perché secondo me serviranno tanto ho puntato principalmente a vedete se andrà anche con le aste si prendono così come i che si 15k su tutti i giocatori che con le aste comunque con un minimo di osservazione si prendono ho puntato principalmente a quelli che potrebbero ricevere il tozzo o quelli di alta ibridabilità vedete gli strong link isco oppure alta ibridabilità david di silva che erano troppo vantaggiosi per non prendere di bala 30 cap come fai a non prenderlo mertens anche lui in odore tots anche se secondo me non è tra quelli più certi però comunque l'ho comprati li ho comprati perché c'è nell'area ci sono l'area voci di tots moment di naengolan e quindi per il discorso di ibridabilità con nazionalità comunque per campionato se non è una carta interessante stesso discorso che ho fatto con la del wild che non è di serie a ma è di ibridabile con la nazionalità i cardi serie a pianici potrebbe essere tots quindi ho comprato anche lui verratti non sarà toz sicuramente non sarà toz di serie a ma li ho comprati per la nazionalità per l'ibridazione e perché poi dalla se dalla prossima settimana arriveranno i tots di ligan perché ho puntato principalmente a quelli che possono ricevere il tots perché sono essendo carte nif non saranno più presenti nel mercato ci saranno loro corrispettivi tots vedete i culibali per esempio ci ho puntato abbastanza e non essendo più nei pacchi saranno carte che tendenzialmente essendo utilizzate comunque nelle sfide tenderanno a salire quindi sarà più facile una rivendita over price su queste carte consiglio di fare lo stesso anche se andiamo sulla schermata dei nif eccola qua dei cipest by rating vedete che i prezzi rispetto a quelli che acquistano gli oculi balillo pagare sotto i 30k con massimo a 30 sono già in rialzo immobile pure stesso discorso come anche gli 86 vedete che verratti sono oltre 20 io l'ho pagati a 15 15 16 k alcuni a 13 sheds neanche lui in risalita anche lui potrebbe essere un tots pianici risalita quindi su nif adesso è leggermente difficile muoversi quindi non vi consiglio di fare grossi investimenti su queste tipologie di carte almeno che comunque non oggi punterete tra giovedì e venerdì con il pack opening con il nuovo soprattutto con il nuovo tots da venerdì sperando che tra stasera e domani non ci siano delle sfide troppo pesanti che vadano ulteriormente a inflazionare queste carte in questa eventualità e ovviamente lì scriveremo e non ne prenderemo altro comunque non senza non avete ancora presi vi consiglio di balzare per ora e di dedicarvi alla compravendita con gli if o alla compravendita con i nif di ovvero il più basso che ancora possono dare buon margine gli 84 di 85 hanno ancora gli 83 pure per molte carte hanno ancora dei margini ottimi a questo appuntamento per il road to glory finisce e road to glory to ronaldo prime moment perché sarà una gloria acquistarlo finisce qui ci sarà almeno uno un appuntamento a cadenza settimanale spero più di uno perché vi voglio aggiornare sulle vendite e su come procedono anche gli acquisti e l'accumulo probabilmente a non l'ho detto per arrivare al fenomeno versione prime moment sacrificherò questo signore qui braio non c'è mai scattato non è mai scattato con un feeling e mi entra da subentrato nella weekend lì comunque nelle partite non lo riesco a sfruttare bene per un milione così bloccato lì in panchina penso che verrà sacrificato per la causa ronaldo invece però ieri note positive per quanto riguarda lo spacchettamento dei tots di liga ho trovato ben viedere per il tots garantito nella sfida e tots garantito quindi ottimo super sub prontamente lanciato in panca e mentre molto probabilmente non rinuncerò a cantè perché è un giocatore mi piace troppo da subentrato mi aiuta anche in weekend lì che quindi probabilmente salvo grosse complicazioni non venderò lui per arrivare ai 15 milioni che mi servono per ronaldo per l'app che da ronaldo e questo appuntamento è davvero tutto vi invito a venirci a seguire sul canale twitch per gli aggiornamenti costanti come abbiamo detto sulla compra vendita e vi invito a lasciare mi piace se vi piace è ovviamente questo road to e scrivete anche nei commenti per qualche consiglio grazie alla prossima